denuncia il furto e poi il malore fatale muore un 61enne di cattabrighe centro storico di pesaro blindato domenica per l'arrivo del presidente mattarella emergenza idrica nel pesarese gli interventi di ato per fronteggiarla oltre gli hotel anche le spiagge pesaresi segnano il sold out ad agosto una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news in apertura parliamo di cronaca è deceduto a causa di un malore un 61enne residente nel quartiere di cattabrighe in via sele mentre si trovava all'interno della sua abitazione insieme ai carabinieri intervenuti sul posto per raccogliere la denuncia di una rapina che aveva avuto luogo in casa poco prima l'uomo mentre era di ritorno presso la propria residenza si è accorto che il cancello della proprietà era stato manomesso da qui la decisione di allertare i militari che si sono poi recati nell'abitazione per verificare l'accaduto durante la perlustrazione degli ambienti però l'uomo ha perso i sensi e si è accasciato a terra inutili anche i tentativi di rinimazione dei sanitari costretti a dichiarare la morte del sessantenne sul corpo è stata disposta l'autopsia per accertare le cause esatte del decesso mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto in primo piano ancora la cronaca con un intervento dei vigili del fuoco avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16 in via ancona località san germano nella zona di case bruciate le fiamme hanno avuto origine all'interno di un capannone che ospita un'officina meccanica la nube di fumo che fuoriusciva dai locali ha allarmato le persone presenti sul posto che hanno quindi subito richiesto l'intervento dei vigili del fuoco diversi mezzi dei pompieri giunti rapidamente sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'intera area ancora ignote in fase di accertamento le cause all'origine del rugo il quale pare fortunatamente non aver coinvolto persone e ora in primo piano parliamo delle misure di sicurezza previste per la giornata di domenica in piazza del popolo e nel centro storico di pesaro in occasione dell'arrivo del presidente della repubblica sergio mattarella al concerto conclusivo del rossini opera festival i dettagli in questo primo servizio cresce l'attesa per il gran finale del rossini opera festival all'evento conclusivo che segnerà il termine della 42esima edizione del roff in programma per domenica 22 agosto alle 20 e 30 in piazza del popolo prenderà parte anche il presidente della repubblica sergio mattarella per questo motivo sono già state emesse le ordinanze per blindare il centro storico della città l'arrivo di mattarella è previsto poco prima dell'inizio del concerto ma piazza del popolo attiverà limitazioni alla viabilità e all'attività di alcuni esercizi commerciali già nelle ore precedenti all'evento proprio le attività del centro storico nello specifico quelle situate tra le poste e via gavardini dovranno rimanere chiuse dalle ore 16 alle ore 24 eccezion patta per i due locali di piazza del popolo con tavoli e spazio esterno che potranno accogliere i clienti già prenotati i cui nominativi dovevano essere trasmessi entro la giornata di oggi alle autorità negli stessi orari scatterà il divieto di vendita per asporto o di somministrazione di bevande contenute in lattine o vetro la somministrazione all'aperto di qualsiasi bevando o alimento dovrà avvenire in bicchieri stoviglie posate usa e getta di carta o di plastica biodegradabile le bottiglie di plastica dovranno essere vendute e servite ai tavoli senza tappi in tutta l'area interessata dalla manifestazione è reso noto poi il divieto per chiunque di utilizzare bottiglie contenitori e bicchieri di vetro e di latta tra le diverse misure attivate sono presenti anche modifiche alla viabilità del centro storico indicate nelle due ordinanze firmate dalla comandante della polizia locale francesca muzzini la sosta sarà vietata dalle ore 12 alle ore 24 in via giordano bruno e piazza lazzarini sia all'interno che all'esterno della ztl il divieto negli orari indicati interesserà anche via pedrotti sabatini zongo e barignani oltre a due brevi tratti in via di ventura e levi natan la fascia oraria in cui sarà interdetta la sosta è anticipata già dalle ore 8 del mattino in largo mamiani e naturalmente in piazza del popolo che dalla stessa ora sarà chiusa al traffico i divieti che riguarderanno invece il transito di tutti i veicoli saranno validi dalle ore 16 e interesseranno piazza lazzarini via branca via almerici e via pedrotti piazza olivieri via sabatini via zongo largo mamiani via gavardini e via giordano bruno tra le disposizioni previste anche quella che indica come la parte centrale del parcheggio di piazza matteotti dalle 16 fino alle 22 30 sarà riservata all'organizzazione del rop la pagina relativa agli aggiornamenti covid sul territorio il servizio sanità della regione ha comunicato che rispetto ai 2378 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 208 i nuovi casi di covid 19 segnalati sul territorio regionale di questi 14 sono stati riscontrati nella provincia di pesaro urbino sempre nelle ultime 24 ore non sono stati notificati nuovi decessi legati al covid e si aggiungono nuove tappe al tour del camper ritenerante dell'area vasta 1 che prosegue senza sosta per vaccinare chi ancora non si è prenotato come possiamo vedere anche nel cartello in sovrimpressione il camper arriverà sul lungomare di marotta domani venerdì 20 agosto dalle 18 alle 22 mentre lunedì sarà la scuola giunta di tavullia dalle 9 alle 12 martedì 24 agosto e giovedì 26 toccherà a fano all'esterno dell'ufficio del turismo dalle 18 alle 22 mentre mercoledì 25 le vaccinazioni saranno effettuate a fossombrone nell'area del bocciodromo dalle 9 alle 12 il 27 agosto il camper si sposterà nel centro storico di montbaroccio dalle 9 alle 12 il 30 invece sarà la palestra comunale di santipolito sempre in mattinata dalle 9 alle 12 gli ultimi tre appuntamenti saranno a gabice mare il 31 agosto in piazza del municipio dalle 18 alle 22 a fratte rosa il primo settembre in piazza san giorgio dalle 9 alle 12 e infine di nuovo al bocciodromo di fossombrone il 2 e 3 settembre dalle 9 alle 12 non c'è bisogno della prenotazione basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento d'identità e la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto la calda estate del 2021 che investe anche il nostro territorio da diverse settimane ha registrato tra le varie conseguenze anche una grave emergenza idrica nella provincia pesarese diversi al riguardo gli interventi del lato assemblea di ambito territoriale che cura la programmazione gli interventi necessari a gestire il sistema idrico vediamo il servizio più di una dozzina di autobotti che con una media di circa un centinaio di viaggi giornalieri portano l'acqua potabile a più comuni dell'entroterra a queste si aggiungono le molteplici ordinanze emesse dai comuni per garantire il corretto e razionale uso dell'acqua situazioni che descrivono alcune delle azioni adottate per fronteggiare l'importante emergenza idrica che ha colpito l'intero territorio provinciale pesarese ato assemblea ad ambito territoriale ottimale è l'ente composto dall'assemblea dei sindaci della provincia di pesare urbino che pianifica e controlla l'attività dei due gestori della provincia marche multiservizi e aset nel settore del servizio idrico integrato in riferimento all'emergenza riscontrata il presidente ato marco ciccolini ha analizzato le criticità riscontrate dal sistema di approvvigionamento idropotabile provinciale il nostro sistema di approvvigionamento idrico è abbastanza debole abbastanza debole perché si basa principalmente sulle acque di superficie sui fiumi sui torrenti d'estate hanno meno portata hanno meno acqua e di conseguenza andiamo in difficoltà l'aumento dei consumi che c'è stato in questi anni ma oltre a questo consumo maggiore abbiamo un cambiamento climatico importante lo vediamo anche in questa estate e questo ci crea dei seri problemi avremo l'esigenza di differenziare l'approvvigionamento idrico abbiamo l'esigenza di non essere dipendenti solo dai torrenti dei fiumi che d'estate hanno meno acqua tra le misure adottate per superare i periodi emergenziali e i limiti riscontrati dal sistema di approvvigionamento Ato ha attivato l'utilizzo di falde sotterranee in primis il Pozzo del Burano e da quest'anno per la prima volta anche quello di Sant'Anna. La situazione è una situazione del tutto analoga se non addirittura più grave rispetto a quello che si è rappresentata nel 2017 quindi una crisi molto pesante alla quale stiamo al momento rispondendo bene. Rimane una situazione critica intanto sull'interconnessione degli acquedotti che ereditiamo dalla storia. Una volta i gestori che operavano sul territorio erano indiversi quando abbiamo iniziato la nostra attività nei primi anni 2000 erano presenti 7 società di gestione ai 15 comuni in economia e ognuno praticamente si era creato il proprio parco infrastrutturale. È una situazione che adesso come adesso si rivela anti economica e poco efficiente e quindi cerchiamo di introdurre un'economia di scala anche nella gestione delle infrastrutture così poi come ci richiede la normativa. Tra gli interventi più a lungo raggio c'è invece il progetto di realizzazione di un invaso. Tema centrale dell'assemblea dei sindaci che Ato convocherà a settembre. Da agosto dell'anno scorso si è aperta una possibilità, una possibilità che è arrivata direttamente dallo Stato con finanziamenti del piano invasi e altri finanziamenti europei. L'anno scorso proprio in agosto è arrivata una sollecitazione dalla regione proprio per la possibilità di creare infrastrutture di questo genere. L'Ato ha convocato l'assemblea dei sindaci e l'assemblea dei sindaci ha dato mandato di verificare questa questa ipotesi. Questo primo studio ci permetterà poi di andare avanti. È chiaro che il mandato deve essere dato dall'assemblea dei sindaci che noi riconvocheremo a settembre. Poi chiaramente questo eventuale invaso o struttura dovrà essere anche pianificato negli strumenti regionali. Non solo emergenza idrica perché anche a causa delle alte temperature di queste giornate che interessano le Marche, diversi sono stati gli incendi che si sono verificati sul territorio regionale. A fare il punto della situazione nella prossima intervista è l'assessore regionale con delega alla protezione civile Stefano Guzzi. È un'estate molto problematica quello che stiamo attraversando. Purtroppo la mancanza di pioggia e soprattutto le altissime temperature, il nudo anche al vento, spesso caldo, hanno causato molti, molti, molti problemi in queste settimane dal punto di vista degli incendi boschivi e della carenza idrica. Perché che riguarda gli incendi boschivi abbiamo avuto 52 incendi abbastanza significativi sul territorio della nostra regione, tutti riportati comunque nell'albero della sicurezza grazie al grande lavoro fatto dai vici del fuoco, dai volontari della protezione civile e dai cittadini anche molto attenti che hanno sempre segnalato puntualmente queste situazioni di sofferenza. Quelli più difficili da affrontare sono stati quello di Numana, Porto Recanati, Castelfilardo di qualche settimana fa, quello di pochi giorni fa a Senigaglia perché è proprio stato sviluppato vicino alle abitazioni, quello di Camerino che forse è stato il più vasto che c'è stato in tutta la nostra regione in questa estate, alcuni momenti di problematicità anche sulle Cesane, zona Fossobroni, Urbino, nella provincia di Pesolo, così come nell'Ascolano. Comunque sia, come dicevo, tutti quanti in qualche modo riportati abbastanza celermente nella massima sicurezza grazie al lavoro dei vici del fuoco, dei volontari di protezione civile che voglio sinceramente ringraziare. Noi abbiamo come Regione Marche una convenzione con i vici del fuoco per avere a disposizione delle squadre speciali antincendio 24 ore su 24, questa convenzione scade il 25 di agosto, da qui ai prossimi giorni, non si pensava che si potrà essere così per lungo tempo questa emergenza quest'anno, questo comunque non vuol dire che anche eventualmente scaduta la convenzione non ci sarà la celerità degli interventi che saranno sempre comunque garantiti. L'elicottero della protezione civile Marche è sempre attivo e allerta 24 ore su 24, ovviamente nelle ore diurne, non nelle ore notturne, nella sua sede di cingoli, sempre pronto alla partenza ed è intervenuto un po' sempre in tutte queste emergenze che si sono sviluppate. Ci sarà quindi da parte nostra la massima attenzione, ma siccome i prossimi giorni si prevedono già da domani una recrudescenza delle temperature, un ritorno a un caldo molto affoso per un'altra settimana circa, speriamo poi che possa arrivare anche qualche bioggia, il richiamo che io faccio fortemente a tutti i cittadini della nostra regione è quello di avere la massima attenzione nei propri comportamenti per evitare situazioni di pericolo, la massima attenzione anche nel segnalare eventualmente situazioni di pericolo o di inizio incendi e la massima responsabilità di ognuno di noi per far sì che non avvengano incidenti di una certa gravità, così come fino ad oggi non sono avvenuti e ancora una volta ripeto, grazie anche sempre alla massima attenzione e capacità delle nostre forze dell'ordine, delle nostre vigili del fuoco e della nostra protezione civile. E sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Simona Bertuccioli, 52 anni, deceduta a causa di un malore improvviso martedì mattina mentre si trovava nel giardino della sua abitazione. Una notizia che ha lasciato sotto shock anche la sezione pesarese dell'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, di cui la donna era volontaria. Tutta la redazione di Rossini TV si unisce quindi al cordoglio per la scomparsa di Simona. E continuiamo ora con le altre notizie del nostro telegiornale perché a Fanno torna l'appuntamento con la fiera di San Bartolomeo in programma dal 24 al 26 agosto nella location di Sassonia. Saranno più di 250 gli ambulanti che proporranno i propri prodotti e sarà obbligatorio avere il Green Pass che non sarà richiesto nei punti di ingresso ma all'interno del perimetro della fiera verranno effettuati dei controlli a campione. In occasione della fiera di San Bartolomeo l'amministrazione fanese e l'area Vasta 1 hanno potenziato la campagna vaccinale con la presenza del camper mobile che sarà parcheggiato davanti all'ufficio del turismo in Viale Battisti e sarà operativo dalle 18 alle 22 sia del 24 che del 26 agosto. Inside Marche Live, la principale associazione dei tour operator in coming delle Marche, sarà presente al meeting di Rimini, evento che ogni anno ospita grandi personaggi del panorama nazionale nello stand della regione Marche che sarà allestito alla fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto. E qualche giorno dopo quello relativo al ritiro dalla MotoGP, il nove volte campione mondiale Valentino Rossi ha annunciato ieri attraverso i propri canali social che insieme alla compagna sono in attesa di una bambina. Le foto caricate da Rossi in cui il campione indossa un camice bianco simulando una visita, hanno raccolto in breve tempo migliaia di reazioni e di felicitazioni dai tanti fan e anche dagli innumerevoli amici della coppia. Non solo hotel ma anche spiagge, il mese di agosto continua a regalare ottimi numeri sui flussi turistici della città, che ha visto nelle settimane a cavallo del Ferragosto il tutto esaurito anche tra gli stabilimenti balneari. Il servizio è di Edoardo Razzi. Il boom di prenotazioni che ha visto segnare il sold out nelle settimane più calde dell'estate e del mese di agosto non ha interessato soltanto gli hotel e le strutture ricettive. Anche gli ombrelloni delle spiagge pesaresi hanno registrato il tutto esaurito, come evidenzia la portavoce nazionale CNA Balneari, Sabina Cardinali. C'è stato sì, il tutto esaurito, la gente con questo caldo, specialmente tanta voglia di mare e tanta voglia di fresco. Ricordiamoci comunque che gli stabilimenti lavorano tutti con le misure Covid, questo significa un 25% in meno di postazioni, di posti. Quindi anche se lavoriamo al completo, comunque abbiamo il 25% di posti in meno del normale, perché per le misurazioni Covid dobbiamo tenere distanziamenti maggiori fra gli ombrelloni. Il Ferragosto è stato abbastanza sottotono, nel senso che le misure Covid comunque, anche se non ci piacciono, ci devono stare, perché prima di tutto viene la sicurezza, poi viene il divertimento. Quindi la maggior parte degli stabilimenti ha lavorato in questo modo e non ci siamo dati alla festa libera. Il trend ad inizio stagione relativo al turismo si è confermato anche nella seconda metà dell'estate e nei giorni clou di agosto. A raggiungere Pesaro sono stati per lo più gli italiani. Il turismo che avevamo prima, magari che poteva essere l'americano, anche in vista del roof, il giapponese, è tutto molto più difficile, è tutto molto più complicato. Le richieste di affitto degli ombrelloni da parte dei turisti, ha superato le possibilità offerte dalla spiaggia? Assolutamente sì. Le spiagge di riferimento degli hotel solite, classiche, non bastano più. Ci vogliono altri posti, altre situazioni, per cui anche spiagge dove si lavorava meno con il turista di passaggio dell'albergo, oggi lavorano molto. La speranza è che anche il colpo di coda della stagione e i primi giorni di settembre permettano di registrare un buon numero di presenze. La portavoce di CNA Balneari Cardinali ha voluto inoltre ricordare i diversi danneggiamenti registrati nelle spiagge pesaresi. Atti vandalici già denunciati nelle scorse giornate dai titolari degli stabilimenti, per i quali però si è in attesa di interventi volti a migliorare la situazione. Tutti gli anni abbiamo questi episodi di atti vandalici, ma questo è stato un anno particolarmente intenso. Abbiamo avuto sia io che diversi colleghi, diversi atti vandalici, anche pesanti. Nonostante abbiamo quasi tutti gli imprenditori, abbiamo la vigilanza privata, i cosiddetti torchman che girano, però sembra che quest'anno i ragazzini siano particolarmente scatenati perché spesso si tratta di ragazzi ubriachi. Avevamo chiesto anche all'amministrazione comunale un intervento importante con un atto di un'ordinanza pubblica in cui si vietava il permanere in spiaggia negli orari notturni, almeno da mezzanotte alle 5 di mattina, ordinanza che non c'è stata, che non è stata fatta. E questo per noi è stato un atto, una mancanza grave dell'amministrazione. E sarà dedicata al leggendario batterista Dante Agostini, di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita, la sedicesima edizione del Festival Musica e Musica, che partirà domani e andrà avanti fino a domenica 22 agosto a Mercatello sul Metauro. Vediamo le interviste. Questa sedicesima edizione è dedicata interamente alla figura di Dante Agostini, che è un personaggio leggendario del mondo della batteria, un grande musicista, un grande didatta, un grande divulgatore, nato a Mercatello sul Metauro nel 1921. Per noi questa era un'occasione importante da sottolineare, visto che sono 100 anni dalla sua nascita, ed era un'occasione anche per creare un progetto importante intorno alla figura di questo grande didatta, di questo grande musicista. L'evento si svolgerà in tre serate, abbiamo pensato di realizzare in un weekend tre serate importanti. La prima serata sarà venerdì 20, dove ci sarà un evento inaugurale, dove scopriremo ancora meglio questa figura, attraverso dei documentari, attraverso la presenza delle figlie che saranno presenti con noi a Mercatello sul Metauro e la presenza anche di personaggi e esperti del mondo musicale. Questo venerdì sera, sabato sera ci sarà un concerto importante a Piazza San Francesco, che è un altro luogo importante del Centro Storico di Mercatello, dove avremo Giagia Telesforo Quartet in concerto. E domenica sera ci sarà un momento, anche questo per noi è una novità, perché abbiamo istituito, abbiamo pensato di istituire un premio internazionale dedicato proprio alla figura di Dante Agostini e domenica sera ci sarà questo premio, con la consegna delle quattro borse di studio, anzi le tre borse di studio, il premio musicalità e creatività e poi ci sarà un concerto jazz di un trio importante greco. Stiamo cercando di riportare la normalità anche nei nostri piccoli borghi, sempre molto difficili da raggiungere, ma comunque dove crediamo che il turismo sia il motore principale e creare questi eventi, sempre con estrema difficoltà per un comune piccolo come il nostro, creare questi eventi è sempre un volano per portare gente a Mercatello. Parteciperanno i familiari di Dante Agostini che sono originari francesi e una branchia della famiglia diciamo è greca. Poi ci sarà Geggete Telesforo il sabato sera con un concerto di un quartetto e la domenica ci saranno i premiati e la famiglia ancora che farà la chiusura dell'evento. Venerdì sera ci sarà un momento molto importante dove dedicheremo uno spazio urbano, quindi una targa in una via dove è nato proprio Dante Agostini, nei pressi del centro di Mercatello sul Metauro. E con gli Havana Club in scena sabato sera la musica torna protagonista sul palco dell'arena BCC di Fano. Vediamo il servizio. Non solo commedie e spettacoli, anche la musica live è protagonista del cartellone estivo dell'arena BCC di Fano. All'interno del programma di Musica Arena infatti è fissato per sabato 21 agosto alle ore 21.30 il concerto degli Havana Club, nota tribute band di Vasco Rossi. Una serata per ascoltare dal vivo i più grandi successi e le principali tappe della carriera di uno degli artisti più noti della scena musicale italiana, eseguite dal gruppo considerato tra i migliori tributi a Vasco nel panorama nazionale. Gli Havana Club nascono nel 2003 e ad ogni concerto la band si prefigge di realizzare uno spettacolo che sia sempre più professionale, curato e fedele possibile per omaggiare al meglio il più grande rocker italiano. L'inserimento nel 2016 di Michele Carovano alla voce, considerato tra i migliori interpreti del Vasco moderno, contribuisce a realizzare uno spettacolo ricco di emozioni, la cui scaletta ripercorrerà la carriera del cantante di zocca e re degli stadi italiani dai primi anni fino ai successi più recenti. Appuntamento quindi a sabato 21 agosto con gli Havana Club all'Arena BCC di Pano. In chiusura di questa edizione del nostro telegiornale un flash di sport e parliamo di calcio a 5 perché è stato annunciato nel pomeriggio l'arrivo all'Ital Service di Lucas Bolo. Argentino classe 1992, Bolo è un centrale o laterale difensivo di Piedemancino. Proviene dal San Lorenzo, il club che nel maggio scorso si è aggiudicato la Coppa Libertadores, il più importante trofeo per club di calcio a 5 sudamericani. Dopo Espindola fra i pali e De Luca per la fascia, ecco dunque il terzo grande innesto dell'Ital Service, un giocatore che sicuramente saprà regalare tante soddisfazioni ai tifosi pesaresi. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordiamo ora la prima serata di Rossini TV. Questa sera alle 21 e 15 uno speciale dedicato al Mocha Club e al Perragosto in musica a Gabice Mare. L'appuntamento questa sera sul canale 633 Rossini TV. L'informazione torna invece puntuale domani mattina alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini. Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale. Un buon proseguimento di serata su Rossini TV.